Che cosa succede quando la vostra azienda ha bisogno di ridefinire il flusso di informazioni? Per il Dipartimento IT significa dover superare enormi sfide operative, come l'implementazione, la gestione e il supporto di tutti gli scanner. Ciò comportava stress, problemi e sovraccarico della desk. Ora esiste un modo migliore, un modo per garantire che i dati vengono acquisiti direttamente alla fonte e distribuiti rapidamente passando dal punto A al punto B in modo ancora più efficiente. Un modo per semplificare le operazioni di installazione, manutenzione e gestione dei vostri scanner. Ora potete finalmente monitorare tutti gli scanner in rete mediante una dashboard, promuovere l'uso di nuovi driver, firmware e software con la massima semplicità e garantire che i vostri scanner siano integrati con applicazioni business basate su web, un servizio di primo ordine dotato di un elevato livello di sicurezza su cui potete sempre fare affidamento, con meno ostacoli, meno errori e meno costi che consentono di ridefinire il vostro modo di lavorare. Così potete ottenere una visione più chiara delle operazioni aziendali, ridurre le chiamate all'help desk, implementare software in un attimo e migliorare la gestione del rischio. È tutto ciò di cui avete bisogno per potervi concentrare sul quadro generale. Considerate le soluzioni intelligenti che apportano il loro contributo per un processo decisionale e intelligente. Il mondo è guidato dalle informazioni. Collaborate con Kodak Alaris per usufruire delle loro potenzialità. Kodak Alaris. La ridefinizione del flusso di informazioni.